ci saranno 16 concorrenti per una sfida epica 50 tiri totali divisi in 10 turni da 5 tiri per ogni turno ci sarà un rigore uno shot out due tiri da fuori aria e uno stop e tiro alla fine del torneo gli otto con il punteggio più alto si scontreranno nelle fasi finali iscrivetevi al canale mettete un like e commentate con il nome del calciatore che volete vedere nei prossimi episodi gli email sono tornati con una nuova sfida buona visione bella ragazzi siamo gli elei eccoci qua parlo io oggi questa è la controfigura di fene ma fene ma sai parare maestro ah ma fene finalmente siamo arrivati i quarti di finale si è presentato il gattoni arriva da dietro adesso sarà in po finalmente il portiere prego finalmente il portierone ancora tu è ancora io ragazzi mi costringete a venire ma dov'è fene qui vi squilla niente allora no 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 fene sta arrivando fene hai rotto i coglioni dile ufficialmente portiere della five shot fino alla finale basta c'è l'ha fatta tutta dile è giusto che la finisca di sotto contratto fino alla fine il gattone vuole troppi soldi basta allora voglio chiamare il primo ospite vai è brasiliano mi ha battuto spesso parecchie più volte stanotte ha dormito lo stesso a casa mia al letto di berlino don della cruz pereira mamma mia come stiamo sergio ha tutto vai dai non gli dico niente loro lo sanno non dico niente è il secondo sfidante perché lui non è secondo a nessuno perché lui non è secondo a nessuno ricordiamo un giocatore sontuoso clamoroso qualità balistiche impressionanti il suo capello quando corre sembra una divinità si andrea gioao professor porrini mamma mia ma chi ti presenta così e voi due allora oggi sono stato meglio io dico poco al franco seven sins signori riscaldatevi e noi vi lasciamo al maestro ma no aspetta vediamo chi inizia e qui signori ti ho dato una moneta è la moneta maestro facciamo così non è sceglie nessuno se esce un euro è sergione se esce la croce professione vai maestro al volo maestro al volo comincia sergione allora sergione hai detenuto il record di questa challenge fino a che non è arrivato carpani però tanto non serviva non serviva fare bisognava passare come la vedi oggi come la vedi oggi prof è un cliente scomodo è allora prof penso che è uno dei giocatori che ha più qualità nel web in questo momento e uscire colui va bene per me va bene cioè non sto tanto bene forma fisica ho una finale tra un po quindi non posso neanche farmi male e speriamo di di fare almeno 10 gol però devi dare comunque certo di dar comunque tutto te stesso certo 10 gol almeno dobbiamo cercare di fare 10 gol perché lo ricordiamo sono 25 25 25 tiri te 25 tiri prof almeno 10 quindi bisogna essere il più cinici possibili bisogna fare almeno 10 gol per non fare brutta figura uscire sì ma con la brutta figura no mi dispiace tenerle in piedi un problema signori presentiamo matteo robert special guest di oggi l'uomo di punta sorride perché abbiamo bisogno di alzare un po non c'è berlini e quindi abbiamo bisogno di di fascino e poi abbiamo due camionisti puoi far vedere il tuo quanto costa il tuo outfit oggi tanto è questa la mia gamba di l'ora witton christian di or maia witton giacca prada occhiale balenziaga e tutto questo per sostenere il mio pupillo oggi a a qui c'è un veramente un favoritismo se pensino ma siamo qui tutti a fare per gioco sergio ma ma mia sergio cruz per e si ma me no dai così no ma me era partito un missile don sergio che c'è un sergio l'aduttore attenzione che c'è il sergio mi fa male l'aduttore soprattutto a freddo fa troppo male speriamo di migliorare un po' però quattro gole se migliori però se migliori sono cinque gole importante non fortunarsi no l'importante è quello sempre devi o pareggiare o migliorare quindi o quattro cinque tiri vediamo che si può fare ma vediamo un po' però il signor sergio cruz accusava dei problemi all'aduttore è un giocatore vero lui anch'io sto male oggi siamo pari vediamo un po' come come pensi che vada a questo primo giro di rodaggio diciamo 0 su 5 no è no è la meno rigore non per metter pressione ma se para finisce sui ril di dile concentrazione professore professore che non dribbla cazzo è successo perché prima mattina il primo scatto comunque io ho visto sistemare i boccoli così sono da nadal va bene va bene prof dai dai guarda guarda questo è smotto puro io sono lo sai che sono sportivo non come te ha tolto la mano gli fai paura tu a dile importante questo andrì qua può andare a tre bello allora siamo un totale di 4 a 2 primo giro tutto aperto 4 2 sergione ha alzato l'asticella subito poco a quale lì adesso è finito ho la buttata dentro guarda come fa le chiamate professione questa è la palla di chiudere a chiudere a chiudere dire o quando di le entri modalità ril quando entra in modalità ril non lo ferma nessuno ragazzo sergio a zero sergio in bianco il professore può riaprire tutto sergione buono buono dai come buono buono va bene così lì il palo è stato folle eh vabbè poca lucidità però va bene dai adesso proviamo a fare un po' meglio l'altro giro dai 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 oh la la oh la la mamma mia in tutto ciò quattro pari mamma mia quattro pari quattro pari oh la la eh ragazzi bello guarda oh che giocatore la tranquillità cioè a tratti giocatore a tratti modello perché tra una palla e l'altra passeggia mamma mia questa chiude vabbè dai oh ragazzi fammi sognare eh ragazzi come direbbe Luca voglio la plan mamma mia cosa fa che c'è cosa hai fatto aspettare l'arte eeeh oh 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 bravo cosa metti questo su instagram mamma mia professione cinque tiri di fortuna ragazzi ma io ma che si stegli sto boccolo dietro l'orecchio ma perché se no non vedo cruz ma devi dire quanto siamo qua sette a quattro rimbalta ma ragazzi è lunga fidatevi che è lunga è lunga ma manca il mio amico qua sì ma il mio amico qua adesso va dille vieni qua vieni temi temi hai fatto un giro in paradiso e un all'inferno no è stato hai ragione hai ragione bravo bravo il proprio è stato bravo a recuperare non è da tutti no non è da tutti infatti ma noi lo sappiamo cruz ho apparato un bel rigore adesso vediamo il prossimo giro come va no al primo giro devi tornare almeno a quattro dai testa ragazzi testa non ci credo no no ole se la fa ole si ma Sergio la vuole buttare in merda la buttare in cacciara dai mamma mia Don Cruz la mette lì mamma mia Don Cruz con tutti i dolori del mondo ogni tiro è una patita ogni tiro è una patita Città Venezia Questa la mettiamo Attenzione E' importante Don Odile disperato Eh ma qua l'ho fatto apposta Il tiro per fare 10 gol Per non fa brutta sicura Mancano 10 tiri 3 gol in teoria si ce la facciamo Prime di qua prime di là Ma l'ultimo tiro Per tenere in galla Sergio Cruz No in realtà raga ho sbagliato Anche con Carpani Stesso problema Sai cosa quando sei troppo convinto di prenderla Magari ti scappa Ti spugge poi io non essendo portiere Non lo so magari chi è portiere Si ripete E' un errore che faccio E devo migliorare E adesso vediamo Consueta domanda Secondo te No mi ha sentito Quindi vediamo Sono 7 pari? Attenzione Doppio passo Stundel Professor Porrini Ha preso Dile Vuole tenere in vita Sergione E' la zolla L'angeli ci sta Stecca il professore E' Sergione pregusta Guardatelo E' come ridio Attenzione E' questa cosa di Polo pieno E' bello 1-1 9-7 Per il professore Dile può solo che applaudire Dinnanzi a tale bellezza C'è poco da dire Testa al prossimo giro Guardate il rigore Mi rode per quello Eh? Con la traversa Eh vabbè però Vediamo il prossimo che andrà meglio Dai Allora Porro Per me la traversa Non ce l'ha parato lui Questo è importante Guardate per gol E andiamogli questa soddisfazione 6-2 da Sergio Manca il 10 tiri a testa ragazzi 10 tiri a testa Mi aspetto almeno Che tutti e due facciate Più del 50% Tu mi aspetti un po' troppo Mi stai Fica se non mi aspetto troppo Da voi due Da chi cazzo mi deve aspettare Vabbè tu sei campione In carica Da queste cose qua Quindi Luca ha già vinto Luca ha già vinto Ragazzi noi vi lasciamo col maestro Mi raccomando Nid Ehi Venite qua Eccolo qua Eccolo qua In mezzo In mezzo In mezzo Ragazze Ragazze Vi lasciamo qui in alto Abe e Nid Sono qua Sono single Signori come la vedete Chi passa? Eh chi passa Eh È dura qui eh Sbilanciamo ci manco Chi passa E beh adesso È leggermente favorito il prof Devi solo gestire il vantaggio Mancano 10 tiri Non 30 quindi Sai cosa Lo vedo molto più cattivo Il prof è molto più Concentrato È 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 più concentrato vantaggio prof quindi io sono convinto di una cosa Sergio Sergio no però Sergio non molla un cazzo è un secondo che la ribalza Sergio è capace di fare 4 sentiamo ma lei da dove viene? da Ibiza sapete dai Ibiza ecco perché così abbronzato vedo più in forma al prof lo togliere con la lente per cortesia vedo più in forma al prof ma occhio a Sergio perché 10 tiri potrebbe essere quello facciamo scommesso per me vince Sergio per me il problema nooo quanto mi giocano te? 100 non è vero ma perché la butta? nooo fai in serio Sergio non da Sergio in buca d'angolo 9 pari Sergio ne l'ha detto ha guardato il professore tanto dopo fai 0 si stanno guardando i due Dile e questo è un altro da rirlo attenzione bello 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 ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Sergio Cruz Pereira 10 a 9 va in vantaggio il professore non dice nulla e va sul dischetto vediamo che sportività ehhhh siedi sulla linea niente a secco oggi Dile lo dico da 9 ohhhh nooooo ma no che disperanza se ne sappiamo te l'ho visto eh ma perché Dile si è andato tutto da un lato gol attenzione sicologia inversa ma che bella te io ho toccato anch'io bello sul primo palo secco che c'hai? guarda in vantaggio il professore che c'hai Dile? che bello bellissimo bellissimo ancora più due è un piacere veder la propria creazione e far sti gesti non ho sentito tutta la traversa ti sei ripreso complimenti però mi dà fastidio quella traversa eh lo so c'era già la seconda in due giri devo fare qualcosa di diverso adesso vediamo di migliorare il prossimo dai eh è l'ultimo questo sai come si chiama? The Last Dance ultimo giro sei sotto di due vuol dire che per provare a vincere devi fare 4 o 5 ma tu ci rendi le corde? devo fare due gol per non finire i video ragazzi no dai no dai devi fare almeno tre mettili un po' di pepe proverò non è facile non può uscere con la mia creazione io sono la creazione di mia mamma quindi finiamola qua però papà no sei una mamma non faccia questi discorsi adesso vabbè vabbè di mamma e papà hashtag la creazione di profumino The Last Dance Sergione ragazzi mi ha fatto una premessa ma scusa ma qua ma perché? no ma perché? che strozzata che strozzata dai don della cruce voglio svegliarti che abbiamo scommesso qua eh bello sergione devi farlo vai a più uno se no il professore è in vacanza una palla che scotta deve farlo lo carica lo carica lo fa lo fa il professore non dice niente va sul dischetto se ne mandano a dire i due guarda Nid come pregusti i 100 euro Nid guarda che c'ha il sorriso stampato faccio anche io la Nid che ho i challenge oggi con i tuoi 100 euro è il tuo momento le semifinali sono nei tuoi piedi di lei lo prendi domani salta 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 uuuh il professore vola in semifinale con una classe immensa Adesso calcia Finiamola bene Porro Calciala viva al parroco Tanto ormai sa che le semifinali sono sue Sempre la zolla Settimana scorsa Dada ha fatto un buco Il professore 15 a 13 Il professore vola Il semifinale Il vinto è Complimenti entrambi Sergio Ragazzi noi abbiamo fatto il nostro Adesso che 15 a 13 è difficile vedere No 15 a 13 Posso dire che secondo me non si vedrà Una finale anticipata Dile Grande per la parata super Quelle che non le ho fatte Adesso però Il professore Che è passato Che è passato Ti vogliamo già dire Tu rischi di prendere o Carpani o Dose Niente ragazzi Il prossimo che viene non è un problema Tanto per vincere di affrontare tutti Quindi Signori Me l'hanno detto anche a me la 100 tiri Invece Moscardelli era stato eliminato Non l'ho affrontato Sergio non l'ho affrontato Meglio di così Hai vinto la fine Matte Ti lasciamo da solo Chiudi solo come tu sei qua Esatto Anche perché Sorridi Anche perché Blur dice che tu Sorridi Per la mascella Per vedere la mascella Fa quello che vuoi Che dire Ci vediamo ai prossimi quarti di finale Carpani contro Dose Ci vediamo ai prossimi